Ciao a tutti da Federico di Seconda Vita. Questo ispirato artista che vedete in foto non si chiama Johnny, non è certo il diavolo e non è nemmeno un cugino di zucchero sugar fornaciari. Eppure ha una cosa in comune proprio con il nostro zucchero. Se vi state chiedendo cosa possa essere, non è lo stesso sarto, ma una cosa più importante, il blues. Perché questo musicista, che si chiama Hans De Sink, anche se piuttosto sconosciuto ai più, è in realtà uno dei bluesmen più importanti della nostra cara e vecchia Europa. Sembra un po' un controsenso, visto dove ha avuto origine il blues, ma così non è. De Sink, che nasce tedesco nel 48, ma vive oggi a Vienna, sin dagli anni 70 esprime tutto il suo talento nel presentare con il suo personalissimo stile proprio il blues delle origini. E la sua non è una chiave di lettura lontana centinaia di miglia dal delta del Mississippi. De Sink ha suonato e collabora ancora anche discograficamente con i più grandi bluesmen d'oltreoceano, compreso Terry Evans, con cui De Sink ha condiviso tre album tra il 2008 e il 2014. Infaticabile divulgatore del messaggio blues in terra europea, più di 50 le date attualmente in programma per il Tour 2024, se non volete investire nell'impegnativa raccolta di tre CD home cooking, un buon entry point per scoprire De Sink è questo Johnny and the Devil, un chiaro omaggio anche dal titolo ai temi ispiratori del country blues. Tutti i brani, ad eccezione della comunque felice rilettura di Sitting in Limbo di Jimmy Cliff, sono scritti o finemente riarrangiati dallo stesso De Sink, che dimostra così la sua versatilità anche di autore. La sua calda voce di basso baritono si fonde con il peaking di diverse sei corde, puntualmente presentate nel libretto dei testi alla fine di ogni brano. Grande maestria tecnica, che risalta ancora più evidente dalla peculiare scelta di scandire con la tuba di John Sass, tutto lo spettro acustico più basso dei semplici ma efficaci arrangiamenti di De Sink. Un particolare inserto derivato dalla folks music tirolese. Con Johnny and the Devil siamo sempre e comunque a cavallo tra gli anni 80 e 90, e questo va tenuto in considerazione in alcune scelte, anche di incisione, che sacrificano la live session in studio a vantaggio di un missaggio in cui la voce di The Sink si staglia più evidente, alcune volte anche in eccesso rispetto al resto. Ma questo non significa che non si possa godere di quest'album anche dal punto di vista veramente audiofilo. Accettate queste limitazioni. Occorre solo dosare bene il volume e non fare troppo caso a qualche strumento un po' troppo arretrato. Riguardo alla musica, in Johnny and the Devil ci sono almeno 40 anni di influenze. Il chiaro omaggio alla collaborazione con Son Thomas, nell'enciclopedica Mississippi, lo ricorda senza troppi fronzoli, così come la successiva Flying Shoes, scritta nello stile ad accordi aperti di Bob Diddley, con cui The Sink collaborerà in tour. E scusate sempre se è poco. Ma non c'è solo il Delta Blues. Il fiddling di Shake Hands with the Sun ci racconta anche di un The Sink profondo conoscitore del più moderno country blues, riletto anche qui in modo semplice ed immediato, inserendo altri ingredienti della musica folk austriaca, la fisarmonica e le armonie vocali del gruppo STS. Potete ascoltare come suona Shake Hands with the Sun nel mio impianto Wi-Fi nel solito brano di anteprima alla fine di questa video recensione. La registrazione, come di consueto, è avvenuta con il Tascam DR-07MK2. Insomma, come scrive lo stesso The Sink, Johnny and the Devil è un album semplice, diretto ed immediato. Un sincero ma raffinato e coerente omaggio al blues delle origini da uno dei bluesmen europei più accreditati. Consigliato non solo l'ascolto ma anche l'acquisto. Non vi cambierà certo la vita, ma scoprirete un'altra via meno battuta per ritornare lì dove tutto ha avuto inizio. Un giorno, spero, parleremo anche di questo. Ciao e grazie, come sempre, da Federico di Seconda Vita. Grazie. 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 Grazie.